La tua faccia ha stancato. Come? Stammi lontano, René. Ma cosa potevo fare io? Difendere tua moglie. Grazie a Dio mia moglie è fuori pericolo. Anche se il suo viso rimarrà fortemente sfigurato. Brutto figlio di puttana. Vado a denunciarti. Vai pure, se vuoi rinunciare a 10 milioni di euro. Parlo dell'assicurazione che è pronta a pagare i danni nel tuo viso. La mia faccia ha stancato. Mio marito mi sottoporrà ad un'operazione di completa ricostruzione facciale. Avrò il volto di un'altra. Lei non capisce, non è una questione di soldi. Per me è una vera e propria tragedia. Una distrazione può essere fatale a volte. Senti bella, quello non ha niente da perdere e ci denuncia. Io non sono più sicura di voglierlo fare. Non possiamo rischiare di perdere tutto adesso. A presti. A presti. A presti. Grazie a tutti.